Non chiamatevi nudisti, chi in spiaggia preferisce andarci senza costume è un naturista che sa dove andare e come muoversi liberamente tra le località turistiche della provincia di Salerno, coniugando la libertà di mostrarsi nella sua nudità con le bellezze paesaggistiche della costiera maffitana e di quella civentana. Il viaggio sulle spiagge dei nudisti naturalisti parte proprio sulla Divina. La guida dell'associazione regionale che raggruppa i nudisti savernitani e campani porta poi dritto nel Civento, per l'esattezza marina di Camerota, a pochi passi dalla spiaggia del Ciclope. La zona è quella chiamata Troncone, difficilmente rintracciabile perfino sulle cartine e sulle mappe stradali, ma vista l'assidua frequentazione di nudisti e una buona pubblicità sul sito web dell'Uni, non si direbbe proprio inaccessibile a tutti. I frequentatori abituali hanno come punto di riferimento due stabilimenti balneari della zona, per capire da dove prendere le coordinate. Sul lungo costone roccioso spicca una torretta abbandonata e all'interno della roccia si aprono numerose piccole grotte che offrono riparo dal sole e da occhi indiscreti.